Ehi, che ne pensi di trovare un lavoro che ti piace? Sono così occupato. Ti piace il mio lavoro? Il lavoro mi dà un grande senso di gratificazione. Sono soldi facili. Mio padre non ha nient'altro oltre il lavoro. Non esiste il non far niente. A volte piangevo in ufficio. Io non riesco a stare ferma. Sentite un po'. Forse il lavoro non deve essere divertente. Nel mondo di oggi, uno dei massimi traguardi nella vita è avere un lavoro. L'automazione eliminerà presto milioni di lavori. È molto peggio essere irrilevanti che sfruttati. Se non c'è bisogno del tuo lavoro, dove troveranno uno scopo le persone? Sono così occupato. Quest'idea che dobbiamo lavorare anche se non ne abbiamo bisogno. Ne sei dipendente. La Corea è diventato un paese dove tutte le famiglie sono infelici. Considero i lavori di oggi una schiavitù modernizzata. Adesso ci scaldiamo davvero, impazziamo un po', giusto? Questi sono i NEET. C'è la percentuale di ragazzi che non fanno assolutamente nulla nella vita. Not in employment, education or training. In Kuwait ci sono molte persone, diciamo 20 persone, assunte per fare il lavoro di una. Lavoro in un ministero. Arrivo lì e sto seduta sei ore a fare nulla. Quando prendi le ferie, quanti giorni fai di vacanza ogni anno? Sei settimane. In a row? Di sì, là? Bissi, 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 bissi.